E' arrivata la risposta del prefetto, vi aspettavate un cartellino rosso, è arrivato soltanto un cartellino giallo, un po' delusi? No, non mi aspettavo un cartellino rosso, io mi sono limitato, io poi il responsabile dell'anticorruzione si è limitato a segnalare un comportamento che il prefetto nella risposta agli stessi consiglieri di minoranza ha definito un atto, quello di diffida anche ai componenti della commissione aggiudicatrice della SGR che si pone al di fuori del perimetro definito dalle norme vigenti e che rappresenta quindi un grave vulnus del principio di separazione tra il potere che deve esercitare la politica, ovvero quello di indirizzo e controllo e quello gestionale che deve essere esercitato dagli apparati dirigenziali e amministrativi del comune. Il prefetto quindi ha rappresentato che se questo comportamento dovesse reiterarsi, sulla base dell'articolo 142 del testo unico degli antilocali potrebbe esserci la sospensione e l'eventuale rimozione dei consiglieri. Quindi si apre una nuova fase, probabilmente ci seguiranno polemiche, però c'è un avvertimento preciso che arriva dalla prefettura e che voi in conferenza stampa avete sottolineato proprio per dimostrare che la vostra azione non era poi campata in aria. Sì, assolutamente, perché ripeto, io addirittura dalla stampa nazionale sono stato dipinto come uno pseudodittatore folle che voleva l'eliminazione magari fisica dei consiglieri di minoranza per rimanere da solo al potere della città. era una stupidaggine ed è stato sottolineato il fatto che la nostra segnalazione, la segnalazione degli enti preposti, era assolutamente plausibile e che comunque il comportamento della minoranza è stato al di fuori dalla norma. Questa munizione potrebbe aprire magari una nuova fase del dibattito politico per quanto riguarda il Consiglio Comunale? Questo è un po' l'auspicio che per esempio è arrivato dal Presidente Riccetti? Io spero di sì, ma più che altro dovrebbe portare non solo la minoranza ma tutta la città a riflettere sul fatto che la politica ha dei precisi confini che fino ad oggi magari sono stati ignorati perché chi è eletto dal popolo è convinto di poter fare quello che vuole. Non è così, non è così. Questa città si deve riappropriare della cultura della legalità e secondo me questa segnalazione del Prefetto Gabrielli è un passo importante in questa direzione. Tornando al bando per la SGR che sarà riproposto nelle prossime settimane, insomma nei prossimi mesi, potrebbe arrivare un supporto proprio dalla Prefettura? Sì, io quando ho parlato al Prefetto della questione lui si è messo a disposizione per un supporto direttamente dalla Prefettura nel caso dovesse avere difficoltà a mettere insieme la Commissione perché, ripeto, poi quando un dipendente comunale si sente minacciato penalmente da esponenti politici che fanno politica in città da anni è evidente che la cosa non può lasciarlo indifferente. Io spero che non sia il caso, ma nel caso in cui dovessi avere difficoltà a mettere in piedi insieme la Commissione aggiudicatrice il Prefetto si è detto disponibile a darci una mano e non è detto che magari gli chiederemo una mano a prescindere dall'indagine o meno sulla disponibilità dei dipendenti comunali. Grazie a tutti.